Immagini delle telecamere di sorveglianza al vaglio degli agenti della polizia per scoprire elementi utili per identificare il ladro che ieri in pieno giorno si è introdotto in un appartamento in via Crispi a Como, incurante del fatto che fossero presenti alcuni residenti. Dopo il colpo sono intervenuti gli esperti della scientifica per i rilievi. Le indagini sono condotte dagli agenti della squadra mobile che hanno acquisito le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza privati della zona. Dai fotogrammi gli inquirenti cercheranno di ricavare qualche traccia utile per individuare il responsabile. Nel tarzo pomeriggio di ieri il ladro che sembra fosse solo è entrato in un appartamento mentre in casa erano presenti residenti che hanno vissuto momenti di terrore. Nell'appartamento c'erano anche due bambini che si sarebbero accorti della presenza del malvivente e spaventati si sarebbero chiusi in camera. Il ladro avrebbero vistato tra armadi e cassetti per poi fuggire con alcuni oggetti di valore. La padrona di casa che sembra fosse in giardino ha dato subito l'allarme attivando le forze dell'ordine. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza delle persone presenti in casa e di altri testimoni e avviato subito le ricerche del ladro al momento ancora senza esito.